musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi c'è una sfida molto particolare dalla patch 12.30 che si chiama per gli orsi quindi dovremmo trovare dei barattoli di miele in mappa sparsi in giro per la mappa dove si trova il primo barattolo beh ragazzi dobbiamo andare a foresta ed esattamente nella casa quella che si trova sulla curva del fiume come vedete c'è già qualcuno che ci sta andando stiamo in rissa squadra in modo che riusciamo a farla il problema è che non lo state vedendo perché non ho messo il gameplay eccolo qua il gameplay ragazzi siamo nella casa appunto questa vicino a rissa squadra vicino alla ero full cam vicino al bordo una volta entrati nella libreria segreta evitando appunto gli snappi come vedete ragazzi piani dell'offensiva ted trovati quindi andandoli sotto dove ci sono gli orsacchiotti si sblocca la prima fase della sfida per quanto riguarda invece la seconda posizione del barattolo di miele dobbiamo raggiungere a destra di siepi d'agrifoglio il lago dei flopper e una volta raggiunto quest'albero come vedete proprio qua sotto c'è un nuovo barattolo di miele quindi ragazzi ci avviciniamo lo prendiamo barattolo numero 2 preso vi ricordo di prendere anche quello che c'è che vi ho fatto vedere prima per la posizione invece numero 3 per il barattolo di miele dobbiamo raggiungere il quadrato E5 e per la precisione ragazzi proprio qua dove ci sono insomma tutte le melette come vedete si vede l'agenzia davanti a noi ci mettiamo vicini ragazzi lo raccogliamo barattolo numero 3 preso per quanto riguarda invece il barattolo numero 4 dobbiamo raggiungere esattamente il quadrato F5 e proprio dove c'è quest'albero lo riconoscete perché c'è la curva del fiume basterà semplicemente avvicinarsi allungare un attimo l'occhio sentiamo il rumore delle api ed eccolo qua ragazzi barattolo numero 4 preso intanto ragazzi vi ricordo che ci sono ancora due barattoli anche se ve ne segna 4 su 5 il primo si trova esattamente nel bosco di mele non quello a destra ma quello a sinistra nel quadrato F3 dove c'è insomma il trattore molto semplicemente lo prendiamo e barattolo numero 4 o 5 fatto! e siamo arrivati ragazzi all'ultimo barattolo di miele che si trova esattamente sopra parco pacifico nel quadrato D2 dove ci sono questi tre alberi basta andare semplicemente in quello più alto del triangolo e già lo stiamo vedendo lì sotto quindi niente di strano scendiamo ce lo recuperiamo e il barattolo numero 5 è completato 40.000 punti esperienza livello 207 io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like se vi è piaciuto e se volete vedere tutte le news di Fortnite io sono in live su Twitch ciao! ciao! ciao!